Nelle ultime settimane sono aumentate le preoccupazioni riguardo al possibile trasferimento di acqua dall'Abruzzo alla Puglia. Oggi il Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Lorenzo Sospiri, ha respinto fermamente questa proposta. Il competente Dipartimento della Regione Abruzzo non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale riguardo alla richiesta di trasferire l'acqua dell'Abruzzo alla Puglia. Pertanto si attendono eventuali azioni amministrative, tipiche e specifiche da parte delle istituzioni. Sospiri è stato chiaro. La Regione Abruzzo si unirà per difendere i diritti dei cittadini. Sospiri ha sottolineato l'attuale crisi idrica che affligge l'Abruzzo, causata da un inverno insolitamente secco e da una prolungata siccità estiva. La Regione ha implementato misure di razionamento dell'acqua, tra cui l'interruzione notturna, per garantire una fornitura di base ai residenti e alle imprese. L'Abruzzo è attualmente in stato di emergenza idrica. Non possiamo permetterci di soddisfare la richiesta dell'acquedotto pugliese. Il Presidente Sospiri dice che l'acqua abruzzese non è in vendita, nonostante si possano comprendere i bisogni dei pugliesi. Ed è inaccettabile chiedere agli abruzzesi di fare sacrifici e poi regalare la risorsa idrica ad altre Regioni. La dichiarazione del Presidente arriva in risposta alle recenti discussioni sul possibile trasferimento di acqua tra le due Regioni. La decisione è stata colta con sollievo dai residenti abruzzesi, che temono le conseguenze di ulteriori carenze idriche.